Amici di Twitch, bentrovati! Come state? Come state ragazzi? Salve a tutti! Allora, allora, iniziamo subito a mille perché non voglio perdere neanche un secondo Ricordiamo i comandi chat, saluto tutti i nuovi, saluto i vecchi, saluto i mod che ringrazio per mantenere sempre un bel clima in chat Ciao Repers, ciao Andres, siete tanti quindi non posso mettermi a salutarvi uno per uno però è come se vi salutassi tutti Allora, prima di iniziare con Flavio che ringraziamo veramente tanto per la sua disponibilità e per essere qui Grazie Flavio, ci fa molto molto piacere Grazie a voi ragazzi Ricordiamo al volo i comandi, abbiamo punto esclamativo Telegram che vi manda direttamente al nostro canale ufficiale Telegram dove avrete in anteprima spoiler e programmazione sugli ospiti, sugli eventi in cui siamo coinvolti avrete clip di preparazione all'ospite, avrete meme che usciranno sulla diretta ad esempio in questo caso per prepararvi a Flavio abbiamo messo una clip di Draco Malfoy quando ha il confronto con Silente un pezzo molto molto bello io avrei scelto Yu, perché sono The Boys Forever, però la mia mod gliel'ho data vinta a lei e abbiamo messo Harry Potter poi punto esclamativo Sub dove potete scegliere di fare o la Sub Prime gratuita o quelle a pagamento punto esclamativo ospite che vi rimanda i social di Flavio in questo caso abbiamo messo Instagram punto esclamativo Quote che conoscete già tutti vi pesca una frase storica detta da noi e dagli ospiti a caso tipo orizzontalmente accessibile di Cigliano punto esclamativo Quote e l'ho detto, punto esclamativo Website, sito web, punto esclamativo Merch, Merchandising punto esclamativo Amazon, negozio Amazon Influencer la cosa delle Sub le sapete, ci supportate tanto, avete anche tanto vantaggi e prima di iniziare l'ultima cosa ciao fanpage man under the hood tu hai il saluto personalizzato perché sei la mia fanpage quindi ti voglio bene quindi sei raccomandato esatto, sei raccomandato e chissà perché leggerò per prima le tue domande no, non è vero sì, è vero alla fine ricordiamo che Flavio è stato veramente molto molto gentile perché è molto impegnato in questo momento e dopo un'ora dobbiamo lasciarlo andare via perché oh, che è successo? hai regalato quanti abbonamenti? 1, 2, 3, 4, 5 grazie 5 abbonamenti regalati, vi voglio bene grazie mille Andre quindi abbiamo un'ora abbiamo un'ora, sarà bellissimo però vi prego di concentrare tutte le domande fin da subito ed evidenziarle perché altrimenti non riuscirò a leggerle ovviamente già non riuscirò a leggerle tutte di solito in questo caso ancora di più eccoci Flavio come stai? eccoci qui bene, bene tutto a posto voi come state? bene, molto bene grazie mille grazie a voi per l'invito è un piacere il piacere è tutto nostro Flavio senti, noi iniziamo tutte le nostre live con una domanda e le finiamo tutte con un'altra domanda che poi ci arriveremo la domanda con cui le iniziamo è questa può essere banale per alcuni però altri sono andati in crisi quindi sono molto curioso di vedere come risponderai sono curioso di sapere qual è la domanda la domanda è ci puoi dire chi è Flavio? non tanto dal punto di vista professionale che poi magari ne andremo a parlare e poi è sotto gli occhi di tutti ma dal punto di vista di Flavio stesso quindi passioni, interessi aspetti caratteriali di come ti vedi tu e non di come ti vedono gli altri allora sono una persona tendenzialmente timida e schiva anche se non si direbbe perché chi mi conosce in maniera superficiale può avere l'impressione può avere un'impressione diversa in realtà chi mi conosce bene sa che sono molto timido sono un viaggiatore un viaggiatore da quando ho possibilità di farlo ho viaggiato in giro per il mondo e purtroppo insomma in questo periodo ovviamente ho dovuto mettere la parola stop momentaneamente ma ho intenzione di riprendere il prima possibile quando sarà possibile ovviamente sono mi definisco un sognatore per tanti aspetti sono un appassionato di cinema oltre a un ragazzo che lavora nel cinema e amo la gente semplice il buon vino una buona compagnia sono per le cose semplici in realtà mi definisco una persona tranquilla ecco bene una persona tranquilla amante del vino e delle amicizie ma io ti farò una domanda perché sono di parte tu hai nominato il vino ma io sono anche stato un barman acrobatico in gioventù veramente sì e quindi che ne pensi cioè il vino ma i cocktail no ovviamente no quei cocktail quelli super alcolici intendo quelli fatti carini allora vabbè io sono un amante dell'old fashion ah fantastico l'ho assaggiato insomma in giro per il mondo ogni volta appena posso ordino quello però in linea di massima sono più per il vino ecco quello senz'altro un buon vino non si rifiuta mai un cocktail dipende dalla situazione dalla compagnia e dall'occasione niente ti devo far cambiare idea con uno dei miei cocktail ma molto volentieri molto volentieri va bene va bene mi giocherò il jolly cosa mi offriresti sentiamo eh allora dipende se sei più da dolce o da secco secco? sì niente la mia specialità sono i dolci eh niente ammaggio Mauro siamo compatibili ragazzi ragazzi io sono famoso per i miei mojito in tutte le salse proprio ci andavano a ruba lo facevano pagare veramente tipo 20 euro a cocktail uno dei miei che poi a me mi entravano un centesimo degli incassi però particolari tipo quello black con la liquirizia c'era la stecca di liquirizia con cui lo servivavamo e quindi c'era questo mojito c'era il verde della menta e il nero del cocktail bellissimo però un buon mojito lo assaggio volentieri bene va bene ci proverò Flavio ci proverò hai un mojito per cercare di fargli cambiare idea bene mi giocherò il tutto per tutto mi giocherò il tutto per tutto con te Flavio bianco o rosso comunque? bianco tutta la vita bianco freddo Flavio Flavio senti un'altra mia curiosità poi lascio spazio ovviamente a una domanda a voi e poi andiamo alla chat un'altra mia curiosità è questa tu sei un attore un doppiatore straordinario quindi tanti complimenti grazie però sono curioso di sapere se più che il doppiaggio proprio la recitazione è la tua passione cardine ossia quello che hai sempre voluto fare oppure se c'è una cosa ancora più forte una tua passione ancora più forte che ti fa dire se avessi potuto sarei voluto diventare quest'altra cosa ma allora avendo iniziato da molto piccolo io in realtà ho avuto l'opportunità di scegliere cosa fare nel senso che qualora non fossi stato soddisfatto della mia scelta ero comunque in un'età ancora opportuna per cambiare idea quindi io ho scelto di fare questa professione è un mestiere che amo che amo con tutto me stesso e non ho assolutamente rimpianti è chiaro che ci sono anche altri interessi nella mia vita e se hai fatto l'attore avrei fatto probabilmente altro però potendo tornare indietro rifarei assolutamente tutto da capo ok ok no te lo chiedo perché ero molto curioso perché abbiamo avuto alcuni tuoi colleghi che hanno detto che il doppiaggio è più che altro la recitazione è la loro passione primaria e quindi avendo potuto scegliere qualsiasi altra cosa avrebbero comunque scelto la recitazione e altri sì sono d'accordo sono d'accordo quindi tu fai parte di se concordi con quello che dicono questi tuoi colleghi invece altri ad esempio non so mi viene in mente Sergio Lucchetti che dice sì a me mi piace però avessi potuto scegliere e sarei voluto diventare un musicista ecco quindi ero curioso di sapere se da una parte o dall'altra quindi grazie della risposta no no sono molto soddisfatto di quello che faccio assolutamente ed è una fortuna insomma è la fortuna più grande perfetto Andrea allora hai fatto un sacco di cose veramente un sacco ho dovuto riscriverle per andare poi a vedere bene cosa poter trattare è stata una bella fatica quindi complimenti perché hai ricoperto ruoli diversi parecchi ruoli diversi e ogni volta tranne ovviamente nei Harry Potter ovviamente la tua voce è presente è onnipresente però e si identifica molto però in tanti altri contesti ho faticato a riconoscerti e quindi un complimento aggiuntivo insomma è per questo perché mi hai dato filo da torcere nel riconoscerti in alcuni in alcuni contenuti grazie è meritatissimo io non vorrei essere diciamo controtendenza perché noi siamo tutti amanti dei comics americani più che dei manga e guarda caso fare una domanda sui manga o sugli anime però c'è un anime che io ho amato alla follia dicevo oggi ho descritto come secondo me l'anime perfetto ancora meglio molto probabilmente di tante storie di Dragon Ball di tante run di Dragon Ball che è Death Note che ricordi hai del doppiaggio del doppiaggio appunto di Light beh ho dei ricordi bellissimi intanto parliamo di una decina d'anni fa forse un po' di più diciamo sì 11-12 anni fa è stato è stata la mia prima esperienza nel mondo degli anime e ovviamente quando sono stato chiamato a fare il provino Death Note era già un fenomeno perché veniva da un manga di grandissimo successo e quindi gli appassionati erano ovviamente a conoscenza della grandezza dell'entità del prodotto io nella mia ignoranza non conoscevo Death Note e quindi ho avuto modo di appassionarmi prima all'anime e successivamente anche al manga in corso d'opera diciamo durante la lavorazione è stata un'esperienza molto molto faticosa dal punto di vista proprio dell'impegno anche dal punto di vista vocale abbiamo avuto dei ritmi veramente veramente faticosi ecco ricordo che avevamo delle consegne molto molto strette però nonostante questo abbiamo avuto modo di affezionarci al prodotto e al personaggio è stata una bellissima lavorazione ed è un personaggio che ancora mi dà tante soddisfazioni perché nonostante gli anni passino Light è diciamo un po' un'icona è diventato un'icona e quindi sono molto riconosciuto per quel personaggio e questo ovviamente è una fonte di grande soddisfazione per me poi c'è quella famosissima risata che io ti ho già sentito descrivere in altre occasioni non lo nascondo sono un po' un po' fan e quindi è assolutamente rimasta penso fra le cose più iconiche diciamo degli anime poi sì quella è stata una risata ovviamente che è stata inserita in un contesto produttivo abbastanza importante non abbiamo dedicato un'intera giornata per quella risata è stata un anello come gli altri quindi non ero neanche a conoscenza di dover fare una risata del genere fino a che non l'ho sentita in originale l'ho ascoltata un paio di volte poi l'ho incisa è stata buona la prima in realtà non l'abbiamo dovuta ripetere ovviamente non potevo immaginare che quella risata avrebbe avuto un successo del genere anche in diversi video sono stati commentati da molte persone anche all'estero e non insomma ovviamente non immaginavo che una risata potesse una risata del genere poi così inquietante potesse in qualche modo riscontrare un successo così importante bene grazie Luciano allora passiamo da un personaggio iconico all'altro non si vede che io sono serpeverde no per niente per niente non te l'ho commentata quella sciarma è stata assolutamente inosservata allora no comunque il personaggio di Draco comunque che ho letto l'altro giorno non sembra perché è apparso credo una mezz'ora in otto film in tutto non è assolutamente sembrato questo perché comunque lui fa la differenza nel bene e nel male proprio come caratterizzazione del personaggio quando diciamo se tu hai fatto innanzitutto un provino per questo all'inizio siamo credo più di vent'anni ormai giusto? era il 2001 era il 2001 vent'anni precisi sì ti aspettavi comunque la grandezza del personaggio perché comunque ripeto è apparso poco ma è diventato veramente iconico e in Italia grazie anche al tuo doppiaggio allora diciamo che eravamo a conoscenza dell'importanza del prodotto perché anche lì Harry Potter non era ancora un fenomeno cinematografico ma era già diventato un fenomeno letterario e quindi sapevamo che i film avrebbero avuto un grande successo e un grande impatto sul pubblico adesso si tende a fare provini un po' su tutti i tipi di personaggi all'epoca anche per film così importanti si facevano provini solo per personaggi molto importanti quindi se venivi convocato a fare un provino sapevi che era un personaggio che comunque magari non sviluppava tantissimo ma aveva una importanza proprio ai fini della insomma nella storia e quindi immaginavo insomma che sarebbe diventato un personaggio importante è stato il mio primo antagonista si può definire un antagonista a tutti gli effetti e quindi è un personaggio che mi ha accompagnato per un lunghissimo periodo parliamo di quasi dieci anni insomma in dieci anni cambiano molte cose e abbiamo in qualche modo assistito alla crescita professionale e proprio fisica degli attori e quindi abbiamo seguito il personaggio ovviamente grazie alla direzione di Francesco Vairano che è stato un grandissimo maestro per tutti noi all'epoca eravamo dei bambini io avevo undici anni ma anche Letizia Alessio erano molto piccoli erano poco più grandi di me quindi è stato veramente una grande scuola per me bene bene allora io ragazzi scusatemi prendo l'ultima domanda perché gliela devo fare e poi passa la chat vi prometto The Boys eh no stava qua ce la avevi qua ce la avevi qua ognuno di voi ha fatto una domanda su quello che voleva io me la so giocata generica quindi adesso pure io voglio una domanda Peti Ui Peti Ui allora io tu non probabilmente sicuramente non lo sai ma ho avuto l'opportunità di poter parlare in privato non romperi i coglioni stai zi scusate il francesismo di parlare in privato con Anthony Starr tra gli altri ma soprattutto in questo caso Jack Wade che è l'attore a cui tu dai la voce in Ui e rappresenta per me questa una chiusura di un cerchio perché come ho detto a Gianfranco Miranda quando ho avuto in live ho parlato con l'attore e adesso ho il piacere di parlare con la voce italiana e stessa cosa in questo momento quindi sono emozionato ti dico la verità lui è molto prima di tutto ti chiederei cosa ne pensi di The Boys e se ti aspettavi già da da quando l'hai doppiata perché era completamente sconosciuta il successo che poi ha avuto e seconda cosa se tu sei come la tua controparte attoriale nel senso io quando ci ho parlato con Jack Wade lui è un nerd proprio fino alla testa cioè nel senso mi ha iniziato a parlare lui è fighissimo mi ha iniziato a parlare di Funko Pop mi ha fatto le dalle magliette ricche e morti mi ha iniziato a prendere cose che io ho detto no è fantastico questo uomo ma con una semplicità una naturalezza che ti fa veramente impallidire quindi sei nerd tanto nerd quanto l'attore a cui dà la voce allora non so se riesco a arrivare ai suoi livelli insomma potrei impallidire al cospetto di tale nerdaggine però però me la cavo me la cavo abbastanza bene magari sono nerd solo su alcune cose sono un nerd settoriale diciamo sono nerd sui videogiochi anche se adesso sono padre e quindi purtroppo i videogiochi l'era dei videogiochi è momentaneamente messa in stambi gioco un'ora alla sera quando mio figlio dorme e basta perché poi insomma ho un lavoro e quindi devo dormire qualcosa però sì su qualcosa sono nerd senz'altro no sicuramente mi definisco nerd e per rispondere invece alla prima domanda non sì non mi aspettavo questo successo per The Boys non conoscevo il fumetto la graphic novel anche se poi noi quando siamo entrati in sala abbiamo avuto modo di sfogliarla perché era a disposizione degli attori c'era un tomo grosso così abbiamo avuto modo insomma di notare anche delle differenze che ci sono state non tanto nei personaggi quanto proprio nella storia e il direttore di doppiaggio Eleonora De Angelis era ovviamente a conoscenza di tutte le dinamiche della storia aveva letto anche il fumetto e quindi insomma ci è stata sicuramente d'aiuto in questo ok grazie mille a tema videogiochi visto che l'abbiamo trattato con Valentina noi stiamo organizzando perché Valentina ci ha dato un'idea Valentina ha detto io voglio giocare a Tekken un torneo di Tekken tra tra la copione che stiamo non lo so ci ha dato ci ha dato proprio l'idea giocava a Tekken e quindi è quello che ha proposto ci ha dato questo e ha detto io vorrei giocare a Tekken e fare un torneo ha detto ok la prendiamo al balzo adesso organizziamo abbiamo sentito Sara Ferranti e ha detto io mi piace questa cosa io picchio forte poi diceva durante i picchiaduro e quindi ragazzi organizziamo la stagione io sono cresciuto con Super Smash in realtà quindi diciamo altro genere di picchiaduro però Tekken perché no insomma sicuramente organizzeremo adesso organizzeremo un mega torneo tra ospiti dei Talks quindi tra doppiatori comic book artist e content creator uscirà fuori una cosa mamma mia che figata sì 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 figo non vedo l'ora Flavio Valentina soprattutto ci ha dato l'idea Flavio e Sara con Edoardo ci saranno sicuro perché erano fomentatissimi soprattutto Edoardo e Sara Edoardo e Sara sono due miei grandi amici quindi insomma sarà un piacere stracciarli e umiliarli davanti a tutti bene bene è lo spirito giusto mi piace mi piace mi piace passiamo a voi ragazzi della chat allora le domande sono tantissime io leggerò solo le evidenziate e darò priorità agli abbonati perché gli abbonati hanno anche questo vantaggio la priorità nelle domande tra l'altro oggi Cicciomora è impazzito ha regalato 10 sub quindi molti di voi penso saranno già abbonati e avranno la priorità chi non è abbonato è gratis se lo facesse insomma se vuole allora questa su Harry Potter l'abbiamo già fatta di Tommy sempre sul pezzo però ti chiede anche se hai letto i libri prima o dopo il doppiaggio e ti fai complimenti per Yui e Light puoi anche dire non li letti per niente grazie ho letto il terzo capitolo il prigioniero di Azkaban prima di entrare in sala e confesso che è l'unico libro che ho letto di Harry Potter ok da 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 allora questa non è una domanda ma ti fanno i complimenti nonostante non è un fan di Drago per la caratterizzazione grande fan di Yui complimenti divertente grazie grazie mille Manuel ti chiede se è Team Cap o Team Iron Man questa esce sempre scusami mi puoi ripetere la domanda sei Team Capitano America o Team Iron Man per chi ti sta più simpatico e ti piace di più non sono così ferrato sull'argomento quindi non posso prendere una posizione ok la seconda parte è Team Super nel dubbio diciamo Team Cup nel dubbio Team Cup perché lo immaginavo nel dubbio Team Cup e partono anche gli applausi di Rito se avessi detto Team Iron Man partiva questo e adesso attento che può partire un altro applauso un altro boom Team Superman o Team Patriota chi vincerebbe in uno scontro Patriota dai Patriota doppia soddisfazione da noi questo era facile però questo era facile questo era facile però sei stato bravissimo Flavio orgoglio orgoglio allora vado avanti spanchi ciao Flavio quanto diavi al liceo la frase paura Potter ricordo che eri letteralmente assalito dalle richieste chi è sempre stato il migliore ieri Spanky ci diceva in live che è stato al liceo con te ah sì sì e quindi chi è chi sei si chiama Jules sul gruppo Telegram degli abbonati non so se penso stia per Giulia comunque beh è una frase che mi ha perseguitato insomma non soltanto al liceo però al liceo in particolare l'ho sofferta molto proprio per questa mia indole schiva e timida ok e immagino sarà stato pure insomma sarà stato assalito anche difficile poi gestirla vero? sì che poi al liceo in realtà io ero uno che si faceva molto gli affari suoi stavo molto per per le mie insomma non ero non ero popolare nel mio liceo ero più che altro conosciuto appunto per aver fatto alcuni personaggi ma non non amavo essere sotto ai riflettori nel mio liceo ero molto concentrato sullo studio e sulla mia carriera quindi insomma non ero un tipo particolarmente in vista però nonostante questo insomma c'era un po' di curiosità attorno al mio personaggio Jackie ti chiede il lavoro che ti ha emozionato di più allora il lavoro che mi ha emozionato di più ce ne sono stati tanti in realtà non ce n'è non ce n'è uno per tutti probabilmente The Danish Girl è uno dei film che mi è rimasto più nel cuore un film molto difficile molto molto complesso molto delicato era molto facile sbagliare e fare un'altra cosa e rovinare un film quindi la difficoltà è stata proprio quella di trovare una giusta chiave una giusta misura che non fosse eccessiva ma che non fosse troppo poco quindi sono cose molto sottili sono temi delicati e quindi non è non è semplice insomma trovare la giusta via di mezzo certo immagino senti una domanda di fanpage men under dude mi fa strano leggere fanpage men under dude la mia domanda è banale sia un serpe verde punto interrogativo devo rispondere proprio puoi dire anche non commento ne smentisco così nel dude non commento e non smentisco no vabbè dai rispondo io personalmente non sono un serpe verde però sono molto legato al mondo serpe verde perché è un mondo che mi ha che mi ha accolto insomma no come posso dire no no non rispondo non rispondo vabbè fate finta che non ci sia mai stato come se non avessi detto voi non avete mai sentito e cancelleremo questo pezzo dal VOD quindi non rimarrà a traccia dai simpatizzo per i serpe verde quello per forza vabbè non posso non farlo sia nel ma che scrivi Flavio la mia domanda è ti amo cioè io te la leggo quindi ti amo esatto non lo so rispondiamo alla prossima puntata allora da parte di Andrea Craventicinque ciao Flavio volevo chiederti che ricordi hai del doppiaggio delle cronache di Narnia? beh ho ricordi principalmente del primo e del secondo film anche perché nel terzo il mio ruolo era veramente molto limitato era un semplice cameo ho bei ricordi ho bei ricordi il primo film era nel 2005 se non sbaglio avevo 15 anni e il secondo invece avevo già 18 anni tra i due ho preferito il secondo un po' un po' in controtendenza perché invece tutti quanti hanno preferito il primo non so l'ho trovato più muturo probabilmente perché la storia è più bella ok Chiara ti scrive ah no Vita131313 ti scrive Flavio oltre al doppiaggio avresti voluto fare un altro lavoro in parte ne abbiamo parlato prima però togliamo da parte la recitazione del doppiaggio allora togliendo da parte il mondo del cinema che è il mondo a cui sento di appartenere di più probabilmente avrei fatto qualcosa che riguarda il viaggiare il più possibile il mondo la conoscenza di varie culture o qualcosa che crei un legame tra varie culture quindi mi sarei dedicato sicuramente a un lavoro in grado di portarmi lontano da casa o di non farmi avere una casa di non avere radici ecco quello sicuramente oppure mi sarei occupato di designing di interno interior designer bello interior designer particolare interessante io come sento interior designer mi viene in mente grace edler di will and grace non so chi di voi ha seguito la serie bellissima perché è una serie storica che io seguivo fin da quando ero piccolo e son cresciuto con questa serie ed l'attrice era debra messing la storia di will and grace era will che era un avvocato gay e lei che era sì sì la storia grossomodo la conosco e lei lavorava proprio nel campo dell'interior designer esatto e l'assistente era karen che gliene combinava tutti i colori ubriacona gli faceva casini con gli ospiti era una cosa meravigliosa e quindi come sento interior designer mi viene in mente grace edler si accende la lampada esatto esatto da fanpage man under the hood visto che hai doppiato Troy Bolton qual è il tuo rapporto con la musica amo la musica amo la musica ascolto tantissima musica tantissimi generi di musica ho studiato musica quando ero piccolo suonavo il pianoforte poi in realtà mi sono concentrato sul canto che è anche un modo per avere uno spettro un po' più ampio insomma il nostro non è il lavoro dell'attore è un lavoro ad ampio spettro e quindi è importante conoscere i propri strumenti e avere una insomma una capacità che va oltre le proprie conoscenze e quindi studiare per migliorarsi e per apprendere vabbè senza entrare nel dettaglio la musica mi ha accompagnato per tutta l'adolescenza e mi accompagno anche adesso ovviamente ok grazie un'altra domanda è da Ox Marge spero di averlo pronunciato bene Flavio farai un altro video con Merluzzo? tra l'altro mi ha fatto morire in Italia risangolo con Death Note Merluzzo con Dezetta Merluzzo con Dezetta sono morto fantastico non escludo nulla nel futuro bene Micole Zanchetta scrive ciao Flavio ti stimo molto e se vanno bene anche domande un po' gossip vorrei troppo sapere come vi siete conosciuti tu e Valentina perché vi adoro grazie che carina io e Valentina in realtà ci siamo conosciuti a Romics ma dai eravamo già eravamo entrambi professionisti chiaramente però prima di incontrarci in sala ci siamo conosciuti a una fiera appunto a Romics e poi abbiamo approfondito la nostra conoscenza sul campo è particolare è molto particolare Romics come 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 primo appuntamento non era non era un appuntamento chiaramente era un ritrovo di lavoro diciamo così no vabbè era per di Oli file di Oli file Romics li accoppia esattamente esattamente era quello nuova frase storica esatto adesso me la inserisco da solo vita 13 13 13 un po' ti rivedi in hiccup di Dragon Trainer beh sì un po' sì un po' sì per vari aspetti diciamo l'hickup dei primi film un po' la goffagine che mi ha accompagnato per qualche anno quando era un po' più piccolo un po' più inesperto diciamo quindi quello sicuramente sì ma anche la la crescita che ha avuto quando poi il personaggio ha maturato insomma nelle serie e nei successivi film d'animazione quindi sì e poi sono molto affezionato a hiccup voglio molto bene a hiccup bellissimo tra l'altro come personaggio eh sì cosa puoi dirci dalla mia fanpage cosa puoi dirci della tua esperienza nella serie le regole del delitto perfetto dove hai dato la voce a Connor io personalmente ho adorato il personaggio la tua voce era quella giusta grazie grazie mille beh Connor è uno dei personaggi più più fichi secondo me all'interno di quel di quel prodotto io ho un'ammirazione per Viola Davis in tutto quello che fa in quella serie devo dire che ha dato delle grandissime prove d'attrici d'attrice in in vari punti non che ne avesse bisogno insomma però è un prodotto televisivo che in realtà ha tenuto un livello molto alto queste serie molto molto particolari con questa trama molto intricata generalmente tendono un po' a sbaccare dopo le prime due stagioni cioè la terza è la stagione proprio che segna il confine tra quello che era e quello che sarà e invece secondo me quella è una delle poche serie che a mio avviso ovviamente a titolo personale ha tenuto un livello molto alto fino all'ultima stagione ok Oxmar J ti scrive ciao Flavio un saluto da Maria Lucia non so se ti ricordi di me in una live mentre cucinavi un panino volevo assumerti come chef personale io sì poi ci racconti che stanno andando come no sì sì una esperienza divertentissima hai fatto una live dove cucinavi un panino era una live ovviamente di cucina quindi si univa il cinema alla cultura culinaria diciamo fantastico sì e quindi chiamavano degli attori o dei cantanti e li mettevano alla prova facendogli delle rivisitazioni di alcuni piatti che magari erano stati celebri in alcuni romanzi o in alcuni film appunto e io ho cucinato un hamburger di Harry Potter adesso il nome non me lo ricordo era un hamburger che compare nel libro se non sbaglio nel secondo libro e niente è stata una cosa un po' diversa dal solito però mi sono divertito molto fantastico quindi poi c'è una seconda parte sappi che ti adoro una domanda per te arrivato a questo punto della tua vita ti senti realizzato tra parentesi in ambito lavorativo sì sì posso dire di sentirmi realizzato in ambito lavorativo sono molto soddisfatto ok sei un uomo straordinario Flavio evidenziatemi le domande Jackie tu sei anche moderatrice cioè la prossima non te la leggo Jackie io sono molto arrabbiato con te perché già mi hai messo la clip di Draco e ti avevo detto volevo quella di Yui primo gliel'ho mandata io ecco bravo avete fatto associazione a delinquere qui saltano le teste eh ragazzi faremo fuori un po' di persone in senso figurato allora in attacco dei giganti oltre il tuo personaggio quali sono i tuoi personaggi preferiti? Mikasa Mikasa chiedo scusa perché questo crea sempre crea sempre un po' di no anche durante la lavorazione ha creato non pochi problemi la pronuncia di quel di quel nome ok no dai Armin Eren devo dire sono tutti personaggi ben delineati preferisco ovviamente il mio personaggio per una questione proprio di affetto personale ok io l'ho recuperato Mauro cosa? negli ultimi 15 giorni non avevo mai visto l'attacco dei giganti ma neanche io cioè io non l'ho mai visto vabbè figurati la sappiamo che vuol dire vabbè figurati è un anime tu non li guardi non è che non li guardo è che do prerita altre cose sì sì tipo The Boys vabbè ma che vuoi guarda The Boys a ripetizione non è vero vabbè insomma Lucio che volevi un applauso? no voglio chiedere no 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 non chiedi niente comunque non chiedi niente adesso leggiamo la chat diamo spazio cioè sono sono con i forconi in mano cioè è vero questa è la situazione in chat la gente col forcone in mano e Lucio Lucio ha visto con non scialanzio volevo chiedere no cioè non chiedi la tua chance l'hai avuta ma Flavio tu devi capire che Luciano non parla con noi da 90 episodi sì lui fa tu mi piace si è sfogato esatto lui ha fatto i primi 90 episodi dove non si sapeva se era un cartonato o una persona reale e gli assisteva in maniera silenziosa esattamente esatto auditore no Lucio ti blocco spazio alla chat perché è giusto così succede Flavio io e la mia amica Ludovica Rebecca Piozzi ti salutiamo ti stimo moltissimo e mi ha ispirato altrettanto ti chiedo come è stato doppiare alcuni tra i più tra i personaggi più importanti di Disney Channel ti ringrazio beh guarda quello è stato un periodo molto spensierato della mia vita ero giovanissimo e insomma anche con i miei colleghi si era creato proprio un clima di totale rilassatezza e quando hai modo di lavorare con dei ritmi tranquilli sereni e ti diverti insomma poi i ricordi che rimangono sono bellissimi ok domanda successiva Mauro Stacce stateci voi perché ha detto patriota quindi piatevela in quel secchio come si dice Beatrice ti scrive Flavio qual è il tuo animale ah ho letto animale invece c'era scritto anime ho letto animale c'era scritto anime quindi Flavio qual è il tuo anime preferito scusate eravate frizzati potete ripetere sentire più nulla qual è il tuo anime preferito ti chiede Beatrice allora confesso di non essere un grande lettore di anime quindi non ho una grande cultura da quel punto di vista onestamente posso dirti che quei pochi che ho letto Death Note è sicuramente tra i miei preferiti ok Death Note ciao Flavio sono Ludovica ti ammiro moltissimo volevo chiederti cosa ne pensi del carattere del personaggio di Adrian Agreste Chat Noir Chat Noir cosa ne penso del del personaggio e del carattere allora è un è un prodotto che è molto seguito da una fetta molto molto ampia di pubblico diciamo che inizialmente pensavo che fosse un prodotto destinato a un pubblico più piccolo diciamo più giovane invece in realtà è un errore perché è seguito da persone anche grandi di età è sicuramente un bel prodotto noi quando stiamo in sala diciamo che doppiamo un file che non è definitivo quindi non vediamo le immagini complete fino a che non sono proprio disponibili in onda e quindi la prima volta che ho visto il prodotto finito ho detto accidenti però come è fatto bene Adrian è un personaggio molto tenero in realtà un ragazzo semplice con delle grandi responsabilità al suo malgrado e ha questa doppia vita da supereroe e ovviamente deve cercare di tutelare la sua la sua immagine e di non rivelare la sua identità a nessuno questa è una cosa molto bella che ricorda Fanpage Man Under The Hood nell'averti qui stasera vorrei ricordare l'attore scomparso Cory Monteith che ha interpretato Finning Lee personaggio a cui hai dato la voce che rapporto hai col personaggio e come ci sei rimasto quando hai saputo della notizia che poi tra l'altro Glee è una serie molto sfigata cioè nel senso prima Cory Monteith poi l'attore faceva Noah Packerman poi anche l'altra attrice che ha negata poco fa nel lago esatto quindi poverini tutti così giovani e poi con un destino così brutto e comune sì devo dire è stata una serie un po' sfortunata da quel punto di vista ovviamente la notizia ha scioccato tutti noi del cast perché per la scomparsa prematura di un ragazzo così giovane così pieno di talento è una notizia che sconvolge poi io personalmente non ero a conoscenza dei suoi problemi insomma di dipendenza e non non conoscevo questa realtà chiaramente mi è dispiaciuto vedere come l'opinione pubblica si è scagliata contro di lui proprio per le sue debolezze e invece di di commentare una tragedia di questa portata in qualche modo lui sia stato attaccato appunto per essere imperfetto diciamo è un grande peccato insomma secondo me alcune persone dovrebbero contare fino a dieci prima di parlare ma me non avrei saputo esprimerlo meglio concordo anche di fronte alla morte insomma cercare un po' di avere rispetto e poi ovviamente è dispiaciuto per il prodotto è chiaro che è un'assenza che si è percepita molto era uno dei personaggi principali forse il personaggio principale maschile anche se è una serie corale quindi la sua assenza ha segnato proprio un solco ok assolutamente sì verissimo un aggettivo per definire The Boys ti chiami The Tommy e la consiglieresti a un nerd questa serie quindi una la consiglierei la consiglierei anche a un non nerd insomma è una serie che consiglierei a molte persone un aggettivo un aggettivo irriverente irriverente c'è una particolare c'è una particolare mazzoccata ci sta ci sta Spanchi ah ok Spanchi è la ragazza che veniva all'Icio Contè la nostra Bips e scrive ma sono passati 15 anni ed eravamo in sezioni diverse anche con il cognome non si ricorderebbe comunque però Giulia Farris giusto per fare la figuraccia in diretta certo che mi ricordo di Giulia certo che mi ricordo e sono anni che non ci vediamo in effetti però sì adesso ho contestualizzato vedi Giulia che si ricorda di te perché figuraccia si è fatto una bellissima figura bene sono contento sono contento ciao Giulia una rimpatriata del liceo non era in classe con me non era in classe non era in un'altra sezione Nikitra Damon scrive domanda se mai ti proponessero di doppiare un personaggio di Genshin Impact se lo faranno in italiano lo faresti? PS è un gacha famosissimo ragazzi non so che bordi gacha io so con gli anni mi sono proprio una schifta allora non conosco non conosco questo prodotto ma chiaramente le scelte professionali si fanno in base ad altri criteri nel senso se la società di doppiaggio che convoca è una società che conosco e con la quale lavoro bene se le condizioni economiche sono positive non precludo delle esperienze lavorative che magari possono essere interessanti per il futuro quindi diciamo adesso ti risponderei sì certo poi bisogna vedere ok ok nel frattempo ragazzi vedo che le mod stanno spammando il canale Telegram punto esclamativo Telegram entrate perché oltre al canale molti di voi sono diventati abbonati avete anche un gruppo per gli abbonati nel nostro canale nel nostro gruppo ci sono dei doppiatori che ci hanno chiesto di entrare troverete Carlo Cosolo bravissimo doppiatore direttore del doppiaggio che interagisce anche troverete Gerola Malchieri molto simpatico troverete Lorenzo Crisci che è la voce di numero 5 in Umbrella Academy di God Gun di Bruce Wayne di In Gotham di Bruce Wayne quindi insomma è un ambiente molto molto carino e avrete spoiler enormi tutto qua Tommy scrive mi sono appena ricordato che hai doppiato nei due film di Jumanji com'è stato a doppiare Nick Jonas quale dei due ti ha fatto ridere e emozionare di più? allora ridere e emozionare forse è il primo il primo dei due capitoli anche se ovviamente l'originale Jumanji è imbattibile e inarrivabile questo lo dico proprio da fan di Jumanji ecco sono contentissimo di aver preso parte comunque ai film perché proprio per l'amore che mi lega a Jumanji ero molto contento però è chiaro che un classico non si batte impossibile non nominare la casa di carta ci sono degli aspetti di Denver che ritrovi in te stesso o viceversa i bastardi ridono perché Guglielmo ha fatto una gaffe un nostro streamer quando abbiamo avuto Mirko Cannella glielo volete spiegare voi dai questo Guglielmo il nostro amico diciamo così ha detto a Cannella e gli fa comunque dopo un po' gli fa comunque devo farti complimenti perché la tua risata nella casa di carta è veramente molto iconica e Cannella guarda veramente la risata la fa Denver e Denver lo doppia Flavio Quilone io non do più Denver credo che c'è stato un attimo di gelo vabbè Guglielmo si è sotterrato se tutto stante l'abbiamo visto non è grave non è grave dai di Denver Denver sostanzialmente è un buono è una persona buona è quello diciamo a livello proprio caratteriale è una persona che ha avuto la sfortuna di crescere in un background insomma poco poco serio ecco e quindi chiaramente quello che è è il tutto il processo insomma che lo ha portato a diventare quello che è è derivato principalmente dal suo background e dalla sua posizione sociale in realtà è una persona di grande cuore non è una persona particolarmente intelligente né particolarmente colta però è comunque un ragazzo che se fosse nato in una famiglia bene o in un altro contesto sarebbe un ragazzo d'oro ecco quindi in realtà mi ci ritrovo molto bene c'è una domanda di Greta Greta Pugliani puoi parlarci di Dane Dehan il tuo rapporto con l'attore beh lui mi piace molto è un attore che stimo tantissimo e devo dire da dai tempi di Chronicle ho capito che sarebbe diventato un pezzo grosso e infatti insomma non ho sbagliato è un piacere prestargli la voce l'ho seguito in molte performance anche difficili e l'ho anche incontrato alla prima di di Spider-Man qualche ah sì 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 perché è stata a Roma era a Roma era al 2000 2015 se non sbaglio era Green Goblin cioè Harry lui faceva Robin sì sì bellissima la prima tra l'altro che sta fatta di Amazing Spider-Man 2 è fantastica fuori giro ero ero tra la folla ah bellissimo il culone me lo ricordo come un evento molto confusionario c'era tantissima gente però è stato è stato figo sì il culone anche incontrato Andrew Garfield si è fatto anche a Londra però non a Roma ma questa è un'altra storia ma questa è un'altra storia Slavio da parte di vita quale attore vorresti doppiare c'è un attore che tu dici addio mi piacerebbe tanto doppiare che ancora non hai doppiato allora rispondo con un nome che faccio spesso ed è un attore che non posso doppiare per questioni anagrafiche nel senso che lui è molto più grande di me e quindi non c'è rischio non lo potrò doppiare mai però se fossi qualche anno più grande mi piacerebbe doppiare Ben Foster perché è un attore che stimo moltissimo e credo che sia molto sottovalutato secondo me avrebbe ha avuto grandi occasioni ma secondo me avrebbe potuto avere occasioni maggiori per il suo talento Vita con la tua voce ti è mai capitato di rimorchiare qualche ragazza in passato? è abbastanza scontata sono un padre di famiglia ragazzi ragazzi non me lo fate dormire oggi fuori dal divano da cartaparte sul divano te lo dico io Flavio non rispondere però diciamo che tornando al discorso sono una persona abbastanza timida e schiva ecco quindi non facevo vanto delle mie doti con altre persone cercavo di conquistare con altri mezzi ecco tra i personaggi che hai doppiato di Rebecca Piozzi ne hai uno preferito o hai delle battute particolari preferite? dei personaggi che ho doppiato? allora battute no sono pessimo con le battute quando mi chiedono mi fai una battuta di io resto senza parole perché non mi ricordo nulla ho proprio un blackout ma è una cosa anche imbarazzante perché la gente la gente pensa che tu non dia valore a quello che fai non è assolutamente vero semplicemente faccio talmente tante cose che a parte vabbè quelle due tre frasi iconiche che mi chiedono tutti in linea di massima non saprei cosa dire hai capito? cioè quindi si crea quel momento imbarazzante dove non so quindi personaggio personaggio ce ne stanno tanti personaggi non so è una domanda che mi mette molto in crisi ok Beatrice Beatrice ti chiede ciao Flavio sappi che è assolutamente il mio doppiatore preferito ti stimo tantissimo grazie e tu doppi qualcuno faccio più attenzione alla voce che al film intero ti adoro davvero perché questa non è una domanda ma un complimento grazie mille grazie Sianel ti chiede Flavio sei spaventato dalle nuove tecnologie sostitutive dei doppiatori che avanzeranno nei prossimi dieci anni ma allora sono allerta non sono spaventato perché credo che un algoritmo o comunque sia un programma non possa sostituire un'emozione umana e ne sono fermamente convinto mi auguro di avere ragione e di non dovermi ricredere tra qualche anno non bisogna essere spaventati della tecnologia bisogna cavalcarla e bisogna minarla ho sentito con le mie orecchie il risultato della tecnologia di cui si parla in questione e non sono soddisfatto nel senso che se il risultato è questo ce ne vorrà parecchio prima che i voice actors in generale e i doppiatori possano essere sostituiti magari tra tent'anni chissà non lo so per adesso non lo percepisco come un pericolo spero di non essere incosciente e di avere ragione di avere diritto insomma i miei motivi per farlo ok Mauro mi permetto un attimo di fare un piccolo di dare un piccolo messaggio alla chat ragazzi siamo alle 22 come vi abbiamo detto abbiamo ci ringraziamo ovviamente Flavio per tutta la disponibilità e non vogliamo trattenerlo troppo a lungo esatto quindi recupereremo le ultime domande evidenziate poi se non ce ne vogliate ragazzi no vabbè non vogliamo trattenerlo è anche giusto non sequestrare Flavio che è stato molto molto gentile nonostante tutto quindi io se Flavio tu sei d'accordo io leggerei le ultime tre domande della chat ti faccio la conclusiva e chiudiamo insomma nel giro di brevissimo va bene per te? si si va benissimo certo le ultime tre allora vado in ordine non vedo neanche abbonati non abbonati basta così hai interpretato Declan Porter in Revenge uno delle serie più belle in assoluto puoi parlarci della tua esperienza in questo progetto? in realtà è stata un'esperienza abbastanza breve perché Declan non non sviluppava tantissimo all'interno della serie se non sbaglio adesso non voglio fare spoiler magari qualcuno anche se una serie di dieci anni fa magari qualcuno non l'ha vista però il personaggio scompare nella seconda stagione e quindi è stata una lavorazione sicuramente piacevole per le persone con cui ho avuto modo di lavorare ok penultima domanda dalla chat come è stato doppiare Harry Mailing in La Regina degli Scacchi con Anya Taylor-Joy e come è stato doppiare Quicksilver è vero Quicksilver ancora non l'avevamo nominato ragazzi quindi bravi in Age of Ultron quindi cosa ne pensi di questi due personaggi allora e dei personaggi Quicksilver mi è dispiaciuto che è stato veramente una che diventava una prima mi aspettavo che fosse insomma un personaggio di quelli belli importanti invece è andata così va bene è andata così rimane un po' l'amaro di quella esperienza a metà però sicuramente è stata divertente è stato un piacere esserci ecco perché comunque quando presti la voce a un fenomeno così importante di una saga che comunque non conoscevo entri in un universo no e quindi è stato è stato veramente divertente da quel punto di vista per quanto riguarda invece La Regina degli Scacchi è una serie che ho seguito io non seguo molte serie onestamente perché non ho molto tempo per farlo e preferisco i prodotti cinematografici da spettatore quella è una serie che ho seguito nonostante il fatto che l'avessi doppiata io è una serie che ho amato molto mi sono piaciuti devo dire tutti i personaggi è una serie girata molto bene e a livello proprio recitativo è molto interessante e ho trovato la performance soprattutto della protagonista molto azzeccata bene l'ultimissima domanda cos'è abbiamo coperto tutte le casistiche questa sera perché questa non era ancora uscita e mi faceva strano perché esce sempre io la pongo però ovviamente poi sta a Flavio decidere perché diciamo sempre che loro sono professionisti e non dei jukebox potresti farci un addoppiaggio veloce di una qualsiasi personaggio che ha doppiato con una qualsiasi frase celebre ti richiede Michi Trademo io ho scaricato barile non so se hai notato ho notato l'ambasciatore non porta pena esatto vabbè ovviamente è una cosa che mi mette molto in imbarazzo però lo faccio volentieri perché so che fa piacere aspettate che mio padre lo venga a sapere clip ragazzi clip ragazzi clip questa questa se lo merita se lo merita ok ultimissima domanda mia quella di chiusura che ti dico che facciamo sempre a questa corrisponde anche il potenziale saluto al mondo del doppiaggio se vuoi unire la tua risposta al saluto esatto perché dopo questa domanda alcuni hanno detto io non lavorerò mai più ed sarà colpa vostra quindi sappi Flavio che qualora non lavorerai sarà colpa di Mauro sarà colpa mia ma ti prendiamo volentieri come streamer a tutti gli effetti quindi entri a far parte del team Under the Hood sei molto gentile grazie per accogliere questo povero senza vento guarda non paga altrettanto però siamo gente simpatica alla fine con cui passare una gradevole serata spero abbiamo i biscotti abbiamo i biscotti poi c'è Luciano guarda che bello Luciano io porto il vino mi raccomando bianco o bollicine poi lui è sardo ottimo allora se c'è un aspetto o più aspetti del mondo del doppiaggio che vorresti cambiare che non ti piacciono assolutamente eh tanti aspetti ragazzi ma queste sono le domande che andrebbero fatte più spesso in realtà perché sono domande che ci permettono anche di presentare delle realtà che magari le persone non conoscono e ovviamente il nostro è un mondo in evoluzione è un settore in evoluzione e come tutti come tutti i settori negli ultimi anni è cambiato molto rapidamente il problema è che la le tecnologie e diciamo la produttività ha preso il sopravvento rispetto a dei fattori magari artistici quindi il problema del doppiaggio secondo me è che negli ultimi anni è calato di qualità è calato di qualità per vari aspetti e diciamo che noi ne abbiamo abbiamo sicuramente la nostra responsabilità ma fino a un certo punto la mia la mia speranza è che si torni a concedere il giusto tempo per per fare bene il nostro lavoro perché il nostro è un lavoro è un lavoro molto delicato è un lavoro di grande attenzione di grande professionalità e di grande preparazione non ci si può improvvisare attori non ci si può improvvisare doppiatori non ci si può improvvisare direttori quindi è molto giusto secondo me seguire un'iter e specializzarsi per fare questo mestiere e dovrebbe essere opportuno avere il giusto tempo per imparare ovviamente il mestiere ma soprattutto per permettere a noi di produrre con delle tempistiche che sono umane e non frenetiche perché a risentirne ovviamente è la qualità e poi vabbè ovviamente c'è l'aspetto più pericoloso che è l'aspetto del sottocosto molto spesso per motivi di budget alcuni prodotti vanno doppiati da non professionisti o da gente che non fa questo lavoro come lavoro principale e il risultato è agghiacciante agghiacciante il problema è che l'opinione pubblica poi punta il dito contro il doppiaggio in generale cioè non si dice no al cattivo doppiaggio e sono il primo a dire no al cattivo doppiaggio si dice no al doppiaggio generalizzando quando invece dietro al doppiaggio c'è tanta preparazione tanto studio e tanta attenzione e quindi è anche un peccato che un'intera categoria venga in qualche modo additata per le colpe di alcuni il doppiaggio ha un costo il doppiaggio ha un costo e se è fatto male è meglio non farlo è meglio sottotitolare perché doppiare male un film perché rovinare un film e quindi è giusto che abbia il giusto costo ed è giusto che abbia la giusta attenzione beh hai toccato vari punti su cui concordiamo in pieno bisognerebbe fare una diretta solo su questo vero infatti solo su questo ma poi il fattore tempo ovviamente ci è stato spiegato anche dai tuoi colleghi che diventa sempre più frenetico e molto spesso non si ha neanche il tempo di anche i professionisti molto bravi non hanno poi il tempo di farlo come vorrebbero perché sono tempi talmente stringenti è vero molto spesso si è costretti ad accettare un compromesso cioè ad accettare una cosa che è buona ma magari poteva essere buonissima o ottima e questo è un peccato io stesso a volte non sono soddisfatto al 100% di quello che faccio e poi questo non significa che venga male ma restare comunque no con il pensiero poteva venire meglio anche questo è un peccato e il fattore tempo è un fattore determinante a livello produttivo bisognerebbe avere più tempo per fare tutto è banale dirlo ma è così scusami se l'ultimo proprio inerente a questo quindi secondo te qual è la soluzione a tutto ciò come si potrebbe tornare a a far diventare il doppiaggio italiano l'eccellenza concedendo il giusto budget al lavoro di edizione ok lavoro di edizione non tagliando costi non tagliando personale non andando a risparmiare sulla professionalità delle persone perfetto quindi non scegliendo persone meno qualificate e meno professionali per risparmiare per abbassare i costi tra l'altro io ho saputo una cosa che mi ha sconvolto io credo che nel doppiaggio ci fosse un po' la regola del calciatore cioè Cristiano Ronaldo e Cristiano Ronaldo lo paghi il giusto perché è un campione la mezza pippa la più pippa della serie A la paghi due lire perché è una pippa e invece Chiara Colizzi ci ha detto che non è così nel senso c'è uno standard uguale per tutti a prescindere allora sì diciamo che andrebbe contestualizzato meglio nel senso c'è un contratto collettivo nazionale che stabilisce i minimi sindacali e il mio minimo sindacale e il minimo sindacale di una persona che ha iniziato ieri è il medesimo è lo stesso poi io ho delle ho dei scena più alti magari rispetto ad altri per alcuni personaggi ho trattativa personale lavoro di più quindi in realtà il fatturato non è lo stesso il minimo sindacale è lo stesso cioè una mia riga e la riga di una persona X ha lo stesso valore sul mercato poi in realtà non è così ah ok ti ringrazio per avermi spiegato meglio perché mi aveva lasciato basito sta cosa come è possibile diciamo di base è così poi però in realtà ci sono delle eccezioni caso per caso beh sì certo anche quanto uno lavora e quanto è quotato cambia cioè se lavori a tre turni al giorno guadagni di più di uno che lavora a tre turni al mese ecco questo è ovvio perfetto Flavio guarda noi non ti rubiamo altro tempo sei stato veramente gentilissimo per noi è stato un piacere grandissimo averti qui con noi speriamo che la tua la tua prima impressione di esseri antipatici si è un po' peggiorata ma non ho mai avuto questa impressione si è un po' peggiorata si è peggiorata non migliorata perché è notevolmente peggiorata infatti non vorrò mai più vederlo ok ci bloccherai ci bloccherai da ovunque su qualsiasi social siete già bloccati va bene va bene era quello il nostro obiettivo grazie grazie speriamo speriamo seriamente di di poterti di avere magari in uno speciale tematico o perché no in un altro giro nel torneo di Tekken quel torneo di Tekken in sospeso no? si 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 ci saranno altre occasioni ecco ci faremo molto piacere molto volentieri bene teniamoci in contatto con premi succulenti offerti da Mauro si come no io tanto gallina quello è tuo quello è tuo te lo servo su un bicchiere ad hoc adesso fatto apposta bene d'accordo va bene un abbraccio per prepararti allora va bene va bene un abbraccio anche a Valentina e grazie mille per essere stato qui con noi grazie a voi ragazzi buona serata ciao 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 ciao